Abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per tre distinte edizioni l'associazione ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25 mila euro. Un totale di 75 mila euro, quello elargito dal comune di Jesolo. Contributi pubblici erogati ad una società sportiva trevigiana in occasione della gara annuale di ginnastica artistica che ha luogo nella città marittima. La società dal 2017 al 2019, non dichiarando gli incassi reali ottenuti dalla vendita di biglietti, abbonamenti e prevendite, è riuscita in tal modo ad ottenere oltre 100 mila euro. Quindi abbiamo segnalato la presidente dell'associazione per due distinti reati, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche punito fino a tre anni di reclusione e il reato di sostituzione di persona punito fino a un anno di reclusione. Segnalata anche per reato di sostituzione di persona perché dalle indagini è emerso che una delle richieste di contributo mosse al comune del veneziano è stata emanata quando la donna non ricopriva più l'incarico di presidente dell'associazione.